La paura di non perdere prevale su quella di vincere. Martino e Casarano si giocano punti importanti per le loro velletà di promozione, ma non vanno oltre l'1-1. Al Tursi succede tutto nel primo tempo. Alla splendida punizione del Martinese Maffei risponde il guizzo dell'ex Targato Cerutti. Nel mezzo un rosso Avona che costringe Salentini a 60 minuti in inferiorità numerica, vantaggio non capitalizzato in un nuovo sorpasso o nella ripresa da Palermo e compagni. Pizzulli costretto a guardare i suoi della tribuna a causa squalifica. A guidare il 4-3-3 in panchina c'è il vice Moncelli. Rizzo e Silletti centrali, Tuccitto e Mancini completano la batteria difensiva. Ganfornina libero di sbagliare al centrocampo, ci sono Ievolele e Maffei ai lati della punta Palermo. La tripletta infrasettimanale di Coppa vale una male da titolare per Leonardo Perez. L'attaccante scelto dalla terza come riferimento del 4-2-3-1 del Casarano. Alle sue spalle Falcone, Citro e Gambino. Regia affidata all'ex di giornata Cerutti. Panchina per Raikovic e Gionai. Ci mette poco a movimentarsi il pomeriggio del Tursi. Al quinto minuto Maffei prende la mira dei 25 metri e fa secco Pucci. 1-0 del Martina con il primo gol stagionale dell'attaccante. Decisiva nell'occasione la barriera aggiuntiva piazzata a disturbo della visuale del portiere. Sterile la reazione del Casarano. Mancano le emozioni, non invece i cartellini. 3 dopo un quarto d'ora. Il giallo numero 4 cambia gli scenari della partita. Vona, Giammonito, strattona Palermo, protesta vivacemente e lascia i suoi in 10 con 55 minuti ancora da giocare. La terza inserisce Guastamacca per Citro, passando dunque al 4-4-1 e abbassando Falcone e Giambino sulla linea dei centrocampisti. Problemi anche per il Martina. Maffei si fa male ristabilendo momentaneamente la parità numerica. Il Casarano spietato ne approfitta subito. Ganfornina esagera in uscita. Cerutti scippa e infila all'angolino la pala dell'1-1 non esultando davanti ai suoi ex tifosi. Non ce la fa l'autore dell'1-0. Ecco al suo posto pinto. Ganfornina prova a farsi perdonare sul calcio piazzato. Prima non inquadra la porta, poi destro potente, allungato comodamente da Pucci in corner. Ripresa inaugurata ancora da Ganfornina. L'ex Real sterza sul destro ma senza inquadrare lo specchio. Spettacolare la triangolazione di Evolella Tuccitto sull'auto di destra. L'ex Bolimia aggancia e calcia ma pecca di precisione. È il momento di giocarsi il tutto per tutto. Nel Martina, dentro ancora e vaticinio, per Langone e Evolella, per una formazione decisamente a trazione anteriore. Semplici staffette nel Casarano. Gionaia e Serginio danno respiro a Falcone e De Luca. Diversamente da quanto ci si aspetti, i cambi danno una marcia in più agli ospiti. Al 76esimo, Figliola si confermano dei migliori portieri del Gione H, respingendo così un'insidiosa punizione spoccata da Guastamacchia. Il Martina va affolate. Il Casarano si difende con ordine e riduce a zero i rischi. Anzi, sono gli uomini di la terza a regalare un brivido finale al Tursi all'alba del recupero. Gambino, sterza in aria, Mancino vellutato di un nulla fuori. Strette di mano e un punto a testa. Il Martina aggancia la team Altamura ma resta seconda in virtù dell'expload del Fasano, nuova capolista. Risultato incoraggiante per il Casarano, visto l'andamento della partita. I rosso-azzuri salgono a quota 10 in una classifica più corta che mai. Nel prossimo turno, Casarano team Altamura e Gravina Martina.